Controlli intensificati e mirati, così il prefetto di Treviso, Maria Rosaria Lagana, annuncia il piano di sicurezza per il territorio previsto per il 31 dicembre. Italia nuovamente in zona rossa, particolare attenzione alle feste abusive in occasione dell'ultimo dell'anno. Qualsiasi imprudenza, oltre che essere sanzionata, e verrà sanzionata in maniera assolutamente dura, comporta veramente un rischio per sé e per gli altri. A poche ore dalla fine dell'anno, un appello dalla prefettura di Treviso anche alla prudenza nell'utilizzo dei fuochi d'artificio e dei botti. Mi raccomando una particolare cautela, specialmente in un anno in cui saremo tutti o molti costretti a casa, un po' da soli, che non diventi un diversivo pericoloso, soprattutto lanciare cose dalle finestre, perché si rischiano grevi conseguenze fisiche, magari anche permanenti, e oltretutto in questo momento abbiamo già una situazione degli ospedali, dei pronto soccorsi particolarmente critica, non è il caso di aggiungere danno al danno. Sarà un capodanno diverso dal solito. L'invito dalla prefettura è a mantenere la testa sulle spalle, rimanendo prudenti nei comportamenti. Il fatto di stare bene, di poter festeggiare, anche se in maniera intima con i propri familiari, credo che sia già per quest'anno un grande motivo di contentezza e anche di felicità. Grazie. Grazie. Grazie.